Lo scandalo che si è sollevato a livello nazionale sulla Commissione di Valutazione d'Impatto Ambientale si riflette anche sulla nostra regione, sul caso Obrinamare. Il problema è stato evidenziato da un'inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano, da una interrogazione in Parlamento del deputato del Movimento 5 Stelle Daga e da un'altra all'Europarlamento. Le interrogazioni sono state tese a portare alla luce le opacità dei componenti della Commissione di Valutazione d'Impatto Ambientale, alcuni dei quali, secondo i deputati, avrebbero rapporti poco chiari con le logge massoniche e conflitti di interesse vari. Tutto questo, secondo le associazioni ambientaliste abruzzesi, mette in dubbio anche il sì che proprio la Commissione Via Nazionale ha appena accordato al progetto petrolifero Obrinamare. Per questo il Forum abruzzese dei Movimenti per l'Acqua, Zona 22, il Coordinamento Notrivelle Abruzzo e Nuovo Senso Civico hanno rivolto un appello al Ministro dell'Ambiente Galletti e dei beni culturali Franceschini, Augusto De Santis, rappresentante del Forum abruzzese dei Movimenti dell'Acqua. Perché la Commissione Via Nazionale presso il Ministero dell'Ambiente ha appena varato un parere positivo sul progetto Obrinamare. Nello stesso tempo appunto gli organi di stampa nazionale e delle interrogazioni sia al Parlamento del Movimento 5 Stelle sia all'Europarlamento da parte del gruppo del GUE hanno evidenziato quelle che sarebbero degli aspetti addirittura inquietanti su diversi membri della Commissione Via, indagati per corruzione, addirittura con infiltrazioni alla criminalità organizzata. Sono tutte cose ovviamente da chiarire nelle sedi opportune. Però noi scriveremo ai Ministri come associazioni e chiediamo di farlo anche alla Regione e agli enti locali e agli altri organizzazioni abruzzesi, di scrivere ai Ministri Galletti e Franceschini di non emanare il decreto, anzi di emanarlo negativamente, non solo per queste informazioni che devono essere approfondite, ma anche e soprattutto per l'opposizione degli abruzzesi a questa opera.